Gentili signori e signore, saluto con amicizia tutti voi partecipanti al forum di Diuro Pianaus Ambrosetti. Quest'anno il confronto su temi importanti relativi alla società, all'economia e all'innovazione richiede un impegno straordinario per rispondere alle sfide provocate o rese più acute dall'emergenza sanitaria, economica e sociale. Dall'esperienza della pandemia tutti stiamo imparando che nessuno si salva da solo. Abbiamo toccato con mano la fragilità che ci segna e che ci accomuna. Abbiamo compreso meglio che ogni scelta personale ricade sulla vita del prossimo, di chi ci sta accanto ma anche di chi fisicamente sta dall'altra parte del mondo.